Si chiama Brian Fingo, il primo nato a Ravenna nel 2014, nome da attore e viso rilassato per il piccolo venuto al mondo questa notte, poco dopo la mezzanotte. Grande gioia per mamma Miriam, Meridiana e per il neopapà, che ora possono, dopo un lungo travaglio durato quasi due giorni, cocolare il nuovo arrivato. Meridiana è la prima mamma del 2014. Innanzitutto si è fatto un po' attendere questo bimbo, come è stato il travaglio e il parco? È stato molto difficile, ho sofferto per due giorni in fila, non ti dico, spero che non li proverà nessuno questi dolori che ho provato io, anche se sono molto felice comunque che il bambino, cioè il parto è andato bene e il bambino è nato sano. E quanti chili? 3 chili e 600. Come ti sembra Brian, è tranquillo adesso in queste prime ore? Sì, è un bambino, non pensavo neanche io comunque, è un bambino tranquillo, dorme e non piange, piange poco, confronto agli altri, piange poco. Sei il primo bimbo o hai già altri figli? No, è il primo. Quindi è una gioia immensa. Già, è vero, sono felicissimo, anche se ho sofferto abbastanza, ma soprattutto sono felice. Sara Pietracci per Ravenna Web TV